Fa molto piacere constatare come un gruppo che di per sé è una realtà imprenditoriale si dedichi anche alla cultura e quindi investa del tempo, degli spazi così belli per ospitare iniziative di divulgazione culturale. Quindi un plauso particolare a Ethan Gass per questa iniziativa, che è un'iniziativa che è difficilissimo rintracciare in realtà economiche contemporanee che tagliano tutto ciò che non è strettamente orientato a profitto. Ricordo che da ragazzo compravo dei libri di Longanesi e la pagina di dietro diceva Italgas. Evidentemente la sponsorizzazione fu praticata da Italgas fin dagli anni 50 per sostenere la cultura, che in qualche modo è un gas dell'intelligenza, cioè se l'intelligenza esprime qualcosa che poi rimane immateriale, ma si manifesta in poesia, in libri, in opere d'arte quello è il gas del cervello, quindi la metafora del gas è qualcosa che esprime un'energia positiva, che dà calore, che dà vita. L'elaborazione dell'energia ha sicuramente migliorato qui dall'uomo e quindi sarete più felice perché da ogni esigenza materiale che ci riperiamo, quanto più il nostro spirito vive meglio. L'abbondanza, la ricchezza, l'identificazione di ogni elemento con una pluralità perfino fastidiosa, tanto è precisa, sono proprio la stigualità della pittura fiamminga e della sua bellezza prevalente e perfino eccedente, cioè di un'idea di perfezione che va oltre la verità delle cose. Il principe dell'Echtenstein non poteva non ospitare la bellissima collezione di natura e morte e di paesaggi che voi oggi vedrete a sorte di parte e grazie alla sensibilità di Acronero anche nel dialogo con il testo italiano. Vitalgas vuole promuovere insieme al SNAM la cultura, l'arte e la lettura e avvicinare i nostri asset, la nostra esperienza, il nostro know how alle persone e al contesto in cui siamo inseriti. Questa sera Vittorio Sgarbi ha presentato una mostra ospitata nel Forte di Barb, in Valle d'Aosta, denominata The Golden Age, che racconta la pittura fiamminga olandese da cui vogliamo trarre lo spunto per evidenziare la coerenza con quello spirito operoso che contraddistingue la nostra azienda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.